Musica Sabato 13 ottobre dalle 19 domenica per tutto il giorno e la sera Redondesco rivive la storia Mercatini, duelli e spettacoli e alla locanda li bagioni a tema per ogni borse palato Presentazione nazionale del tortello di Redondesco Palio del lancio della scure, ingresso libero Grazie per la visione